Si vide durante tre giorni, il quarto mi giunse una telefonata in redazione La Mons. Corbera, io sono la Fettina, la governante del signor senatore e la Ciura Le fa dire che ha avuto un forte raffreddore che adesso sta meglio e che vuole vederla stasera dopo cena Venga in via Bertola 18 alle 9 al secondo piano La comunicazione perentoriamente interrotta divenne inappellabile L'appartamento del senatore era vasto e ben tenuto, suppongo per le insistenze della Bettina Fin dalla sala d'ingresso cominciava la sfilata dei libri Di quei libri di aspetto modesto e di economica rilegatura di tutte le biblioteche vive Vennerano migliaia nelle tre stanze che attraversai Il senatore si guardò bene dall'alzarsi, quando entrai ma mi accolse con cordialità grande Stava meglio, anzi del tutto bene e contava di rimettersi in circolazione Non appena l'ondata di gelo che in quei giorni pesava sul Torino si fosse mitigata Mi offrì del vino resinoso Cipriota Era tanto di buon umore che giunse persino a scusarsi delle proprie scandescenze nell'Ade Non so, Corbera, sono stato eccessivo nei termini, per quanto credimi Moderato nei concetti, non ci pensare più Io non vi pensavo davvero, anzi mi sentivo pieno di rispetto Per quel vecchio che sospettavo di essere quanto mai infelice Malgrado la sua carriera trionfale Rifiutò di farmi vedere la biblioteca Tutta roba classica che non può interessare uno come te moralmente bocciato in greco Ma mi fece fare il giro della stanza nella quale eravamo, che era poi il suo studio Vi erano pochi libri Ma in compenso alle pareti Vi erano enormi fotografie a grandezza naturale di statue greche arcaiche E non le solite fotografie che tutti noi possiamo procurarci, ma esemplari stupendi Evidentemente richiesti con autorità ed inviati con devozione dai musei di tutto il mondo Vi erano tutte quelle magnifiche creature Il Cavaliere dell'Uvr, la Dea seduta di Taranto che è a Berlino Il Guerriero di Delfi, la Correa dell'Acropoli, l'Apollo di Piombino La stanza avvalenava dei loro sorrisi estatici ed insieme ironici Si esaltava nella risposata alterigia del loro portamento Vedi, Corbera, queste sì magari, le totine no Sul caminetto, anfore e crateri antiche Su di un tavolino, in una modesta cornice Una fotografia vecchia e sbiadita Un giovane ventenne, quasi nudo Dai ricci capelli scomposti Con un'espressione baldanzosa sui lineamenti di rara bellezza Nel perplesso mi fermai un istante Credevo di aver capito Niente affatto E questo paesano, questo era ed è e sarà Rosario Laciura Il povero senatore in veste da camera Era stato un giovane dio Prima che me ne andassi Mi mostrò una lettera in francese Del rettore dell'Università di Coimbra Che lo invitava a far parte Del comitato d'onore del congresso di studi greci Che in maggio si sarebbe svolto in Portogallo Sono molto contento Mi imbarcherò a Genova sul Rex Insieme ai congressisti francesi, svizzeri, tedeschi Come odisseo mi turerò le orecchie Per non sentire le fandonie di quei minorati E saranno belle giornate di navigazione Sole, azzurro Odor di mare Grazie Grazie Grazie